Una domanda per te Andrea Scanzi, vediamo un attimo un piccolo frammento di Fedez intervistato da Alessandra Buccini. La politica è cittadinanza attiva, è sapere essere consapevoli. Bisogna capire che molte volte per me è anche più semplice di come la si guarda, ma molte volte la si tende a dipingere come leziosa, come molto complicata e macchinosa. Io dico che un Presidente del Consiglio, che la sua campagna elettorale è stata finanziata da grandi lobby e non dal popolo, non può che fare l'interesse delle grandi lobby e non del popolo. Ma tra Renzi e Landini chi è che rappresenta la modernità, volendo mettere loro due? Nessuno dei due probabilmente, ma in questo momento non è il fulcro di tutto, non penso sia la modernità in sé, perché lo stesso Renzi può portare tante cose moderne, ma di suo e le sue radici sono parecchie impolverate. E non c'è nessuno che incarna un'idea di rinnovamento, di proteste? Io l'ho sempre detto, il Movimento 5 Stelle per quanto disorganizzati, per quanto incoscienti, la loro è una sana incoscienza. Io in tutti gli scandali recenti, da mafia capitale, da tutto, non sono mai stati coinvolti da nulla e tu dirai sono da poco in Parlamento. Io le poche cose, le poche schifezze che prima non si sapevano le vengo a sapere da loro. Che poi ci sia un'organizzazione da, anche lì, rimodernare, da benogliare e da oliare per bene, sono d'accordissimo. Ma io, se proprio mi chiedi dove vedo il futuro, forzatamente devo risponderti, ti dico lì. Ecco, Andrea Visto, sei un grande esperto del 25 Stelle, ne hai scritto, lo conosci bene. Una domanda semplice, la mia proprio curiosità. Su questi temi, questi temi che riguardano la modernità, la vita delle persone, i 5 Stelle sono sempre stati molto avanti, no? Da quando è nato il momento di Grillo. Lo sono ancora o se sono persi? Cioè, sono ancora un movimento che pensa, diciamo, nell'ottica dei cittadini, secondo te? È una buona domanda. Credo che loro abbiano subito una botta terribile dopo le elezioni che erano convinti di vincere nel maggio del 2014. Sono stati, secondo me, convalescenti quattro o cinque mesi neanche sapevano dove erano, come quei boxer che hanno preso un uppercut e sono caduti al tappeto. Credo che negli ultimi mesi siano stati molto bravi a fare opposizione, cioè a fare quella cosa che spesso il centro-sinistra italiano non ha fatto. Credo che se il centro-sinistra avesse fatto una serie opposizione Berlusconi sarebbe durato sì o no altro quattro anni. È innegabile, almeno secondo me, che loro siano al momento molto più convincenti come forza oppositrice, come forza morale, come forza che va a fungolare, a smascherare, che non come forza di governo. A proposito di quello che ha detto Fedez, e mi permetto solo di aggiungere, da amante della musica e dell'arte in generale, Fedez può piacere o meno, io diciamo che siamo amici, ci stimiamo, lo trovo molto bravo, ma non è importante. Mi piace molto l'approccio che ha Fedez, cioè è un artista che secondo me ha il coraggio delle sue azioni e quindi ha anche il coraggio di rimanere antipatico, che sia condiviso o meno. Io avverto, e lo dico da uomo di sinistra, avverto una grande mancanza in questa fase storica degli intellettuali che magari erano gli stessi che dieci, quindici anni fa, per esempio, gridavano con questi leader e non vinceremo mai, o magari facevano le prime serate per parlare della difesa della Costituzione. Due nomi a caso, Nanni Moretti e Roberto Benigni. Ecco, a loro due e a tanti altri membri dell'intelligenza vorrei sapere se veramente gli va bene a loro di sinistra vincere a questi costi, con questa persona, con questa politica. Sarebbe chiuso di saperlo. Questo è un tema per la prossima puntata.